Oggi, 3 settembre, ricorre l'anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dallachiesa. Per noi carabinieri, per noi italiani, lui è stato ed è una leggenda, un punto di riferimento. Soprattutto un italiano che amava la propria terra, una persona per bene, di altissima levatura militare e civile. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Finché una destra di partito poterà più dello Stato, non riusciremo mai a battere la Stato. Chiunque pensi di combattere la mafia nel pascolo con il ventano e non nel resto d'Italia, non farebbe che perdere tempo. Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere, né ai provergatori, né ai prototenti, né ai disonenti. La mafia è cauda, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica la lontana. Un altro non se ne accorgerete, ma io a questo mondo lo conosco. Non spero certo di fatturare gli assassini. Ho un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza manifesta deve cessare. Quando c'è un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandato. Magistrati, sociologi, poliziotti, giuristi, sanno benissimo che cos'è l'associazione mafiosa. La definiscono per il codice e sottragono i giudizi alle opinioni personali. Solo nella storia italiana, il primo generale dei carabinieri si ha destrucato il menso al governo. Una professura come la professura, anche se per prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia. Non possono interessare i mezzi e i poteri per finirla dall'interesse dello Stato. Mi fido della mia professionalità. Sono convinto, che sono nati, pazienti e lavoro psicologico, di poter soffrire la mafia al suo potere. Ho capito una cosa, molto semplice, ma forse decisiva. Gran parte delle protezioni maturose, dei privilegi maturi, certamente pagati dai cittadini, non c'è un altro che i loro elementari stessi. Assicuriamoli, togliamo il suo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenzi e i nostri allievi. Viva l'arma di Garevini. Sempre il amore e gloria al generale Carlo Alberto Arnavides. Grazie. 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 Grazie.